Qui al GAL, gruppi di azione locale, lavoriamo al servizio della comunità locale per il suo futuro. Grazie al programma di sviluppo rurale, oggi anche le piccole aree possano pensare a innovarsi e crescere. Lo sapevi che 14 GAL operano per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree collinarie di montagna e 65 milioni di euro finanziano i programmi di sviluppo locale a beneficio di enti e imprese locali. Innovazione e sviluppo sostenibile sono il futuro delle aree rurali. Ora lo sai, l'Europa investe su Piemonte. Il Piemonte investe su di te.